La mia casa a volte sembra un circo, a volte sembra un campo di calcio, altre volte sembra un'allegra pizzeria. La casa si trasforma in tanti mondi, per questo c'è Ace. Ace Candeggina è diversa grazie alla sua nuova formula multipulito. Più protezione per un bianco più bianco a lungo e sullo sporco grasso da oggi è più efficace. Il vero multipulito Ace. Facile così. Grazie a tutti.